ma il gruppo esisteva già da molto tempo prima la passione per il ballo e la voglia di divertirsi insieme ha portato negli anni gli allievi ad unirsi sempre di più in ciò che ci piace il ballo stiamo ad Aprilia presso il quartiere Prima Zona Campo Sportivo e da sette anni a Nettuno presso Sala da Ballo il Golozone facciamo un grande applauso quanti siamo al Golozone? ASD, CM Dance gira e gira dove non vi è al Golozone è del nostro amico Gianluca Massari? eh beh certo, è amico tuo eh allora, musica vado Claudio? Mirko, puoi andare? che ci fanno? ti sento, il brano ti sento devi partire a bazar? CM Dance CM Dance è il nostro amico il nostro amico è il nostro amico C.M. Dance Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione